buona giornata a tutti ragazzi buongiorno da tufumix siamo sul mio canale youtube e siamo quest'oggi su fifa 23 perché siamo qua non lo so no effettivamente ve lo dico subito una cosa velocissima aveva avevo 7 8 9 pacchetti gratuiti gratuiti quelli che ho preso con le varie sfida qua sfida la il momento magico momento che va qui momento che va su e cosa ho fatto ma spacchettiamoli passiamo sul tempo quei dieci minuti in compagnia vediamo che ci regala questo gioco questo fifa 23 siamo sul mio canale tufumix ragazzi iscrivetevi se volete ovviamente un messaggio è sempre piacevole come anche un like che aiuta il canale a crescere tufumix adesso vi lascia in compagnia di questa piccola ma densa spacchettata ed eccoci qua per andare a spacchettare qualcosina abbiamo un po di pacchetti gratuiti ragazzi siamo sempre su naturalmente sul canale youtube di tufumix siamo su fifa 23 abbiamo alcuni pacchetti da spacchettare gratuiti che abbiamo preso così un po qua e la vediamo di spacchettarli tutti cominciamo con quelli più assurdi e passiamo poi ai più belli come oggetti 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 vediamo un po dove abbiamo un po ecco stadio facciamo gli stadio abbiamo anche tre oggetti di cui uno raro per i nostri stadi vediamo se viene fuori un bel san siro un bel paolo massa ah no sono i colori ragazzi non ce ne può fregare di meno dei colori è una cagata pazzesca estensioni verdi azzurri blen non ce ne può fregare di meno no o stati uniti stati uniti nuova zeerlanda e turchese mettiamo tutto in saccoccia e continuiamo con un altro spacchettamento sempre di quelli guadagnati con i vari creazioni con i vari moduli con i vari insomma crea trovati diciamo non comprati ma tutti i pacchettoni presi giocando facendo allenamenti facendo sfide commenti e cose così vediamo questo un prato verde colore delle porte bellissimo verde prato abbiamo delle porte color verde prato e alla fine du monde ci piacciono un casino queste porte le altre sono colori reti dove da masticare che figata diamo la porta gomme da masticare ragazzi non so voi che ne pensate proprio questa cosa qua non la pensavo minimamente abbiamo adesso qua ok giocatori giocatori qui c'è uno rarissimo qui abbiamo giocatori ok spacchettiamo i giocatori tu giocatori bronzoni con uno raro vediamo i bronzoni con uno raro vediamo chi è raro ma è un giocatore della spalla fortissimo che ci può servire no è gioca ed però potrebbe essere forte elson elson io questo non ho sentito elson va bene vediamo chi altro c'è in questo pacchetto del bronzoni ha regalato diamo i giocatori che giocano in tale abbiamo assi giochi d'italia mai gioca nello spezia gioca addirittura nello spezia questo ragazzi elton poi ho delle magliette qua va bene magliette assurde che non ce ne poterà non possiamo fregare di meno quindi andiamo avanti prendiamo tutto in saccoccia e apriamo un altro pacchettone sempre bronzoni ragazzi un bel bronzoni anche per questo momento lo spacchettiamo al volo così sempre su questo canale youtube tutto mix o vediamo questo quando tu e norvegia melkersen 79 di velocità ragazzi questo non corre mica pianino questo e questo occorre anche abbastanza velocemente vediamo qua vediamo qualche c'è niente di che verde prato abbiamo gli stizioni verde prato niente di che tutta roba che non vale niente tutto in saccoccia mai e andiamo aprire qualcos'altro vediamo un po come la butta 24 oggetti di cui 7 rari ragazzi apriamoli tutti bronzoni ma a volte un bronzone può cambiarti la vita vediamo vediamo francese ragazzi portiere 62 patron tuffo tuffo sono io 63 va bene ragazzi questo non è neanche tanto malaccio come portiere per una squadetta bronzo che possiamo anche fare vediamo se qualcuno gioca in italia direi proprio di no però abbiamo tanti giocatorini che non so niente male attaccante questo non è male un altro portiere cioci moigo questo è un cinesino giapponese qui c'è un coreano avevo un po di tutto ragazzi va bene andiamo abbiamo anche un allenatore e la stup molto bene abbiamo degli altri quando non ero corto o vediamo un po se abbiamo la maglia allucinante il ping il parul e il guarena va bene maglie belli cos'è questo tipo di tre maglie bellissime per ogni va bene tutto in sacoccia e apriamo l'altro bronzone ragazzi vediamo che cosa ci riserva l'altro bronzone l'altro bronzone che ci riserva che ci riserva che ci riserva andiamo sul bronzone vai un po di movimento perché hanno un po di suspense è un po di vai vai o questo è tedesco e di 64 brand 81 di velocità questo ragazzi corre questo ragazzi corre questo corre ragazzi poi abbiamo anche strelle 64 attaccante buono anche lui è un buon attaccante vediamo se c'è qualcuno che gioca in italia e in italia non l'abbiamo praticamente sì abbiamo nello spese strelle che gioca nello spese vediamo chi altro c'è non avevano neanche un regalino niente di che di bello niente abbiamo l'andorra come maglia stemmino del dandy temi alti temini vari ma niente di che tutto in sacoccia adesso siamo del clou della giornata abbiamo gli ultimi pacchettini abbiamo un argento di cui tre rari oggetti giocatori 12 di cui uno raro giocatori 1 che è raro diamo prima di tutto con l'argentone vai l'argentone a volte ci dà delle belle cose vediamo questo spagnolo 74 carlos fernandez attaccante non è che si faccia tanto sorridere ma lo prendiamo perché poi abbiamo anche bruno 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 chi cacchio è bruno roberts allenatore van de brum e poi abbiamo delle giocare contratti vari con cosina qua niente di che ci possa interessare prendiamo tutto in saccoccia ragazzi e andiamo a vedere gli ultimi due pacchettoni i più succulenti abbiamo questo abbiamo prima questo che è un giocatore raro valore da 75 in su o superiore ovviamente vediamo chi ci regala come giocatore forza dai un bel super giocatore da non è un granchè non è un granchè arriverà 8 o bolland 82 bolland è raro ragazzi tiro 85 lo città 70 passaggio di 79 dribbling 80 fisica da come sai ragazzi non è poi tanto malvagio questo bolland è può essere un buon secondo secondo punto di riserva 32 non è malaccio noi diamo i saccocci adesso l'ultimo pacchetto pacchetto oro pacchetto oro 12 giocatori di cui uno raro e vai ne vogliamo un po uno tosto uno fortissimo uno che la fine del mondo 1 niente di che ragazzi non è niente di che nigeriano cos'è sanusi però cazzo è veloce questo è 93 ragazzi 93 non lo ferma nessuno questo qua vediamo chi altro c'è in questa squadretta così abbiamo va bene va bene stato difensore saponara italiano lo teniamo tranquillamente o abbiamo polse ragazzi che non possiamo vendere perché non vale una cippa di niente questo però magari il nostro vale quindi proviamo a cambiarlo con il nostro e vediamo se no il nostro vale quindi mettiamo polse direttamente in vendita e come lo facciamo in vendita ok così metti sul mercato polsen polsen non ci possono dare polsen ci danno 5.000 5.000 1.100 1.100 niente ragazzi facciamo così noi lo vendiamo tranquillamente polsen in questa maniera 1000 e lo mettiamo qua ovviamente 500 e lo mettiamo sul mercato buy e via e poi che abbiamo tu sai che ovviamente non possiamo vendere questo perché vero ma ne abbiamo uno in squadra vediamo il nostro in squadra com'era se era vendibile o no non era vendibile quindi abbiamo due schifezze teniamo tutto il resto e questo lo dobbiamo scartare perché non ce ne facciamo quasi niente c'è praticamente niente di niente lo scartiamo ok come si fa sì lo voglio scartare di brutto scarte ok adesso è qua con il tempo di scartiamo scartiamo via ok ragazzi abbiamo fatto un po di tutto abbiamo spacchettato tutti i pacchettoni gratuiti e a questo punto ragazzi che facciamo? vi ricordo semplicemente se volete lasciare un like un bel like al mio canale fa piacere sempre e iscrivetevi se non siete ancora iscritti perché l'iscrizione è importante per far crescere il canale e attivate la campanellina per essere sempre avvisate ogni volta un video sarà presente nel mio canale Tufo Mix vi saluta ciao a tutti ragazzi alla prossima buona giornata, buona serata buonanotte, buon mattino buon lavoro, buono studio, buona scuola buon divertimento mi raccomando occhio al sesso alla prossima non mi fa paura niente di che cos'è questo? e ragazzi cacchiolo Ozyman, Ozyman del Napoli quello ci fa comodissimo ci fa molto comodo Ozyman perché è veloce da Dio tira forte e Ibra ragazzi si scorda di giocare titolare Ibra si scorda di giocare titolare Ibra non finisce in panchina finisce in tribuna Ozyman è perfetto per giocare molto bene ragazzi molto bene poi chi c'è qua? Ozyman del Napoli